Siamo in Puglia, precisamente nel Salento, dove è una cooperativa di cinque ragazzi. Nonostante i roghi che hanno distrutto parte delle loro coltivazioni, lotta con tenacia contro l'abbandono delle terre. Patrizia Senatore li ha incontrati. Questo è uno degli ultimi roghi? Questo è proprio l'ultimo. Ci stiamo adentrando in quello che doveva essere uno dei campi di legumi, sperimentali di lenticchie. Per noi ha un ulteriore peso il fuoco perché distrugge quello che è il lavoro di bonifica, di ripristino della fertilità dei suoli che cerchiamo di portare avanti. Sono in difficoltà i soci di Caradrà, cinque ragazzi del Salento, alcuni laureati che hanno scelto quattro anni fa di recuperare l'agricoltura naturale del territorio. Proprio ora che dovevano cominciare a guadagnare con il loro progetto, il fuoco ha devastato 7.000 metri quadrati di coltura tra i comuni di Cutrofiano e Aradeo e per questo chiedono aiuto. Il primo giorno d'incendio è stato proprio il fuoco in questa casa e più altri quattro punti fuoco in tutta la strada. Contemporaneamente? Contemporaneamente. Qualcuno ce l'ha con voi perché? Non lo sappiamo perché ce l'hanno con noi. Il nostro sogno è rimettere in produzione questi terreni fertili ma abbandonati. E' l'abbandono, dicono il nemico da combattere, quello che stanno cercando di contrastare con il recupero di casali abbandonati, di campi incolti che prendono facilmente fuoco e il recupero dei frutti della terra come i pomodori d'inverno, intrecciati come facevano una volta i loro nonni. Sono pomodori di Aradeo e sono questa vecchia biodiversità che abbiamo recuperato e messo a produzione, che fino a qualche decennio fa era nelle dispense delle nostre nonne, e poi con l'avvento della nuova agricoltura è stata totalmente messa da parte. Sono un simbolo di resilienza, sono un simbolo del sud contadino. Ci rappresentano e in parte ci spronano.